Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Nella serata di martedì 24 ottobre Paolo e Letizia hanno discusso a causa di una frase del giovane macellaio, prontamente ripreso anche dal pubblico del grande fratello con numerosi post su Twitter. Ma andiamo con ordine. Tra i due sembrava essere nata una bella intesa che, purtroppo, sta avendo dei cedimenti dopo che il ragazzo ha confidato di volersi allontanare un po' da Letizia perché inizia a provare qualcosa per lei. Letizia è infatti fidanzata, Paolo non vuole compromettere la sua situazione fuori dalla casa e per questo motivo ha deciso di allontanarsi un po' da lei. La lite è partita da una frase infelice pronunciata da Paolo, il quale ha dichiarato di aver valutato la Petris come persona solo perché, in un momento di sconforto, si è fatta abbracciare da Vittorio. Prima facevi certe cose solo con me. Sto rivalutandote come persona, ha detto Paolo lasciando esterrefatta Letizia ma anche gran parte del pubblico del grande fratello. Questa frase ha ferito Letizia che, delusa dall'atteggiamento dell'amico, si è chiusa nel bagno a piangere e si è poi confidata con le amiche. Ha usato parole pesanti, lui. Ha detto cose molto forti. Ragazze, sono davvero stanca. Parole brutte e non merita nemmeno queste lacrime. Non voglio più rivolgergli la parola. Da oggi in poi ho chiuso, ha detto Letizia. Sta di fatto che da quel momento Letizia e Paolo si sono allontanati e il giovane macellaio romano è crollato in un lungo pianto. Masella si è infatti pentito per i termini utilizzati ed è stato consolato da Alex Schwarzer. Ma il pubblico del reality è sempre molto attento alle dinamiche che si creano in casa e questa volta l'atteggiamento di Paolo non è passato inosservato e ha sollevato un grosso polverone. Come si può notare da diversi video pubblicati su Twitter, prima di mettersi a letto e crollare in una valle di lacrime, Paolo Masella si è tolto la maglia e si è messo in favore di telecamera per farsi riprendere meglio. Questa l'accusa lanciata da molti telespettatori che sui social hanno commentato la scena ironicamente. Lui che si toglie la maglietta prima di iniziare a piangere a favore di telecamere per fare la clip. Sto morendo, non è il macellaio che fa il drama queen in posa a petto nudo e controlla che sia ripreso dalla telecamera. Non ce la faccio, sono solo alcuni dei commenti. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.